ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a prendere in esame oggi è un altro seicone seicone è il nome che do io a questi orologi di sego che si piazzano nella fascia diciamo media intorno ai 1000 euro 1200 1300 cioè quegli orologi per i quali c'è a tirar fuori dei soldini per avere un segnatempo come si deve perché faccio questo perché ho già recensito diversi di questi seiconi recentemente un paio e fanno parte di quelli che potrebbero rientrare nei miei gusti alla ricerca di avere un seico come si deve perché ne ho avuti di seico e seico 5 per la maggior parte ora c'è questo qua che dopo vedrete cos'è il classico skx però voglio un seico insomma in quella fascia di prezzo lì e ho recensito qualche tempo fa la riedizione del 62 mass quella sempre con la versione save the ocean se non mi sbaglio quadrante azzurro recentemente ho recensito il baby marine master sempre anche quello con il quadrante azzurro e ora passo a questo spb 315 che è un orologio che diciamo la riedizione di un modello del passato che fu il successore appunto del 62 mass no questo modello qua originale uscì nel 68 praticamente è la referenza 61058000 me lo sono scritto così non sbaglio e alla cassa cuscino non confondetela con la cassa tartal che poi uscirà due anni dopo nel 70 è questo qua la cassa a cuscino tipica anche degli altri orologi in tutto il mondo perché ho scelto questo orologio per testarlo per capire qual è il mio preferito tra tutti questi secco e devo già dire che sto qua lo preferisco a quello precedente al baby marine master perché c'ha gli indici rettangolari rispetto a quelli tondi un po come il 62 mass no rettangolari questo mi piace molto l'orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale concessionaria di secco e che offre un trattamento di favore a voi che state guardando no a tutti a chiunque mette un tappetto rosso ve lo dico io ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo appunto secco skx con la ghiera pepsi orologio un diver da 200 metri che è però uno di quegli orologi che seguono veramente le specifiche diver no 200 metri divers con la s proprio quello per dire questo qua è un orologio diciamo professionale però era economico il suo tempo adesso fuori produzione io ce l'ho me lo sono accaparrato usato e mi piace lo tengo ora non è che perché ho intenzione di prendere un altro sego questo qua andrà nel dimenticatoio no sono due cose distinte e diverse e ci stanno bene in collezione un bel skx magari un prospect di quelli nuovi per rinnovare un po la specie come si suol dire adesso giriamo la camera guardiamo l'orologino e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni finali iniziamo cercando di fare qualche considerazione sulle proporzioni dell'orologio e per farlo vediamo prima i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate diametro cassa 41 mm spessore 12.5 in gombo trasversale al polso 46.9 mm e interasse ansa da 20 mm misure oserei dire perfette così come lo è l'aspetto al polso non c'è nessun parametro che può risultare eccessivo e se qualcuno con il polso piccolo può avere dei dubbi occorre che se li tolga in quanto la cassa cuscino sta bene anche quando appare leggermente sovradimensionata non è certo il mio caso circonferenza da 19 cm ed orologio che si assesta alla perfezione stilisticamente parlando ci troviamo di fronte alla tipica cassa cushion che siamo abituati a vedere anche nell'orologeria svizzera possiamo dire senza tema di smentita che non è certo un design riconducibile allo stile prettamente secco ma il quale secco si rifà la casa giapponese la reinterpreta però secondo una visione ben precisa osservandola lateralmente si può notare come la caro appaia piuttosto sottile andando a ridurre la percezione visiva dell'ingombrio verticale buona parte dell'altezza ricade sulla superficie obliqua che sfuma verso il fondello e su quella superiore che sale dolcemente verso la ghiera già i 12.5 mm non sono eccessivi se poi li si sfina in questo modo il risultato che si ottiene è di sicuro effetto apprezzo poi il fatto che la finitura superficiale di tutta la cassa sia opaca spazzolatura longitudinale sui fianchi che diventa circolare nella parte superiore l'unico accenno di lucido lo si trova nel bordino della corona a vite che chiaramente come ormai siamo abituati è completamente priva di logo e o lavorazione grafica aggiuntiva ottimo invece il collocamento che la vede affogata nell'acciaio della caro una protezione agli urti che appare conseguenza naturale della forma avvolgente della cassa voglio adesso mostrarvi una comparazione tra due differenti scelte stilistiche della cassa a cuscino sopra vediamo il mio edox idrosub e sotto il seico non è una gara a chi è fatto meglio è semplicemente voler mostrare il taglio differente scelto dalle case in questione molto più netto spigoroso ed opaco il seico molto più sfaccettato complesso e lucido l'edox questo per dire che si fa presto a dire cassa a cuscino in realtà ognuna ha le proprie peculiarità e una propria identità abbiamo detto che la corona è a vite ed assieme al fondello anch'esso a vite garantisce i classici 200 metri di impermeabilità per quanto riguarda decorazione fondello e calibro vi rimando alla precedente recensione del baby marine master tutti i diver secco di questa fascia incassano il movimento 6r35 ed hanno l'onda di kanegawa in rilievo niente di nuovo così come niente di nuovo in relazione alla ghiera anche qui l'effetto vellutato della rotazione è fortemente percepibile e segno di qualità costruttiva per dovere di cronaca segnalo i 120 scatti unidirezionali e l'inserto in acciaio che però vede un tocco particolare laddove la grafica gilt la fa da padrona la particolare scelta di mostrare gli accenti dorati è vincente ed è un dettaglio che probabilmente vorrei fosse presente nel mio prossimo seico ma non è solamente la ghiera anche sul quadrante troviamo accenti e scritte in color bronzo le definisco così perché non si tratta di una smaccata colorazione gold ma di qualcosa di più leggero e poco invadente una colorazione che si apprezza per differenza e non perché colpisce l'occhio con irriverenza sul quadrante non ho nulla da eccepire apprezzo gli indici rettangolari a corollario ed anche il posizionamento della data tra ore 4 ed ore 5 in questo modo tutti gli indici risaltano per contrasto e la simmetria restituita è pari a quella di un orologio nodata il 62 mass ad esempio alla finestra ad ore 3 che spezza l'equilibrio generale inutile poi dire che la leggibilità risulta ideale il vetro zaffero piatto non lascia riflessi sul quadrante ed il contrasto tra indici in rilievo e fondo nero è a dir poco ottimale così come si perpetua nel tempo la convinzione che il lumibright di seico sia uno dei pigmenti luminescenti più efficienti al buio tutti i riferimenti appaiono visibili e ben distinguibili così come la persistenza nel tempo bello il bracciale a 5 segmenti un design poco visto sui seico e che dona all'orologio un aspetto insolito aspetto che fa il paio con il comfort di indossare un bracciale che si avvolge al polso la perfezione sia perché molto fluido sia perché non è particolarmente spesso anche qui la finitura è totalmente opaca a ribadire che l'utilizzo intensivo è nelle corde di questo seico la parte dedicata alla chiusura è quella standard di seico con chiusura doppia sicurezza e solamente due fornellini per la micro regolazione forse un po pochi da segnalare la solita scomoda prolunga in acciaio sottile che fortunatamente rimarrà in posizione di riposo per la gran parte della sua esistenza possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali l'orologio promosso c'è poco da dire rispetta più o meno le stesse specifiche dei due sei coni che ho recensito precedentemente non le caratteristiche tecniche sono quelle i punti deboli sono gli stessi non la prolunghina quella lì in acciaio sottile che è anche difficile da tirar fuori poi quale può essere il calibro che è un pochino diciamo niente di esclusivo ma io come spesso dico sono disposto a spendere dei soldi anche in orologi con il calibro di fornitura vedi il mio bright link cronomat perché l'orologio mi piaccia cioè a un certo punto poi l'orologio perfetto non esiste bisogna sorpassare certi tabù e fa e decidere con la propria testa io non ho certo paura a spendere mille euro in un secco con il calibro 6r 35 che vuoi un buon calibro è semplicemente che l'architettura è la stessa del 6r 15 del 4r 35 che sono tra i più comuni calibri di secco questo per me non è un problema punti positivi l'avete visto questa cassa a cuscino è veramente veramente è veramente bella e abbinata agli indici rettangolari me lo fa piacere molto perché mi piacciono gli indici rettangolari a questo punto quindi preferisco siamo giunti al punto che preferisco questo rispetto al baby marine master spb 297 non mi ricordo qual era la sigla che ho recensito ultimamente questo lo preferisco già di più maggiormente cassa a cuscino che sta bene su qualsiasi polso che è riconoscibile è un orologio un po' differente dagli altri poi come avete visto secco opta per certe finiture particolari nella sua cassa a cuscino che quindi non va nemmeno a scontrarsi con altri orologi che potrebbe avere in collezione uno dice due orologi con cassa a cuscino ma cosa me ne frega sono differenti tra l'altro con la cassa a cuscino c'è una marea di login vintage degli anni 70 li ho presi proprio ne prenderò altri perché mi piace quindi quelli però sono da 36 37 veramente piccolini questo qua è un orologio da 41 mm un diver come si deve un orologio un prospects quindi un orologio impermeabile io credo di avervi detto tutto spero vi sia piaciuto il video che vi sia piaciuto il presentatore e che abbiate almeno un pochino di buon cuore per mettere un like io vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica